Era un giorno importante quello, diverso da tutti gli altri giorni della sua vita e anche incredibilmente irripetibile. Sapeva, come si sa che la pietanza sul fuoco è oramai giunta a cottura, che quello sarebbe stato il giorno in cui Dio lo avrebbe tolto dal fuoco della vita e posto quel banchetto nuziale in cui ciascuno si sarebbe saziato. Sapeva di non essere un granché, di non avere molto da offrire al suo signore, ma confidava nella sua infinita misericordia. Spinse il pesante portone di legno borchiato ed entrò, per l'ultima volta, nella chiesetta di San Giorgio. Prima di chiudere si voltò un'ultima volta a scrutare il mondo e debbe compassione di tutto. Poi mettendosi in ginocchio davanti all'altare ripensò a quel giorno lontano in cui, dopo la morte di sua madre, aveva fatto sue le parole di Cristo. Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, Lui solo adorerai. Lui solo. Lui solo. Lui solo. Le pareti della piccola chiesa di Pietra accolsero le ultime parole di Manfredo, come il suono allegro delle campane di Pasqua. Lo trovarono così, inginocchiato, davanti all'altare, con gli occhi chiusi e il volto trasfigurato dall'incontro definitivo con Cristo. Mentre dall'unica piccola campana dell'eremo si diffondeva miracolosamente il concerto di campane che li aveva spinti fin lì. Fu deposto sul suo lettuccio di rami e adagiato al centro del prato, davanti alla chiesa, sulla neve. Qualcuno intonò un inno nella lingua semplice del popolo e gli altri si unirono. Questa è la conclusione della vita di Manfredo Settala, un sacerdote d'eremita del XII secolo. È la storia bellissima che si intitola, è un romanzo, la vita romanzata, La via della solitudine, scritta dall'eremita Michele di Monte, nostro contemporaneo, e che racconta come, sullo sfondo della storia del conflitto tra Federico Barbarossa e i comuni, Manfredo Settala lascia il ministero attivo e si lancia nella grande avventura della vita eremitica, della chiamata alla santità in un modo straordinario, dell'ascolto della parola di Dio, della preghiera, della penitenza. Manfredo rinuncia ad ogni prospettiva umana di ricchezza, di carriera, anche ecclesiastica, e fa l'eremita. In un tempo di storia della Chiesa e del mondo veramente tenebroso, e la sua vita è un rifugere di santità straordinario. Bene, questi esempi, anche se nascosti, anche se considerati di poco valore, oggi, in particolare oggi, che ci troviamo in tempi davvero burrascosi e tenebrosi, sono esempi bellissimi, sono storie da leggere, da raccontare, perché essere cristiani, amare Gesù, guadagnare lo Spirito Santo, è la cosa più bella che ci sia, è l'unica che dà senso alla nostra vita. Fede e cultura di Giovanni Zenone, per conservare la fede, la ragione e il gusto della vita.